Ciao a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Oggi vi voglio parlare dei pop it, ovvero del gioco del momento. Si tratta di un antistress molto divertente. Vedete, per utilizzarlo basta schiacciare le palline e poi si gira e torna tutto come prima. È molto divertente, utile per i bambini, non solo come antistress, ma anche per sviluppare la motricità fine. Inoltre si può usare per fare dei giochi matematici e oggi vi voglio mostrare ben tre idee per utilizzare questo pop it. Allora, idea numero uno, quella di utilizzarlo appunto per i giochi matematici, quindi per addizioni e sottrazioni ad esempio. Se io voglio sapere quanto fa otto meno quattro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto, vado a toglierne quattro. Uno, due, tre e quattro. E quindi posso contare per ottenere il risultato. E come vi dicevo, questo si può fare sia per addizioni che per le sottrazioni. Il metodo numero due è quello invece di utilizzarlo per fare dei giochi di logica. Ad esempio, creare una sequenza da poi far riprodurre ai bambini. Non so, la mia sequenza, semplice perché sennò non me la ricordo neanch'io, potrebbe essere quella di fare questo rosso, questo giallo, ecco, di schiacciare in questa sequenza i colori. Quindi il terzo, vedete, ho schiacciato tutti i colori, lo rigiro, lo metto a posto e chiedo al bambino di fare la stessa cosa. Quindi il bambino deve riprodurre esattamente la sequenza che ho fatto io. Quindi dovrà andare a rischiacciare esattamente gli stessi colori, nello stesso ordine oppure in un ordine diverso. Questo lo potete decidere con lui e anche questa cosa è molto divertente e permette di giocare con i bambini e intrattenerli. Poi la terza idea per utilizzare il pop-it prevede un po' di fantasia, ovvero quella di utilizzarlo per disegnare. Ovviamente non vengono dei disegni perfetti e precisi, ma come vi dicevo è più che altro un lavoro sulla fantasia in questo caso. Voi non ci crederete mai, ma sto disegnando con i pop-it un pesce. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco qua, vedete, questa è la parte, la coda, diciamo, del pesce e questo è il corpo. Quindi con un po' di fantasia questi pop-it possono essere utilizzati anche per disegnare. Spero di esservi stata d'aiuto con questo video e con queste tre idee per utilizzare il pop-it. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un bel like e di condividerlo perché può essere interessante per tutte le mamme che hanno deciso di acquistare questo prodotto e non sanno come utilizzarlo oppure vogliono dei suggerimenti. Vi ricordo anche di seguirmi sul mio blog www.bimbicreativi.it Alla prossima idea creativa, ciao a tutti!